Perché la Cina sta già dimostrando che probabilmente rischia di farsi fare di un sul boccone delle altre nazionali. Cominciamo da questa Hu Yu Hong. Ricordiamo brevemente chi andremo a vedere delle nostre. Ci sono due tredicenni, la Serena Lichetta dalla Puglia, Armi Emily dalla Lombardia, e poi del 92, quindi quattordicenni, Alice Ruffinoli, Federica Gatti, Anna Reschiglian, Valentina Muollo e Berica Erbacci. Un contesto che ha già potuto lavorare, quello della squadra Juniors, in altre occasioni, ancora non moltissime, quindi si stanno mettendo a posto i repertori tecni, si stanno valutando anche le risposte in competizione di tipo internazionale, in questo senso, occorre appunto valutare l'atteggiamento proprio di queste giovani atlete. Salto raggruppato con una...